Buongiorno a tutti, diamo il benvenuto in sala alle loro eccellenze i Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Eccellentissimi Capitani Reggenti, buongiorno a voi, buongiorno a tutte e tutti, benvenuti all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Salutiamo in particolare le istituzioni, abbiamo qui numerosi segretari di Stato, segretario alla Cultura Andrea Belluzzi, la segretaria alla Sanità Mariella Mularoni, il segretario all'Industria Fabio Righi, Teodoro Lonfernini, segretario al Lavoro, Massimo Andrea Ugolini alla Giustizia. Abbiamo anche l'onore di avere qui con noi Capitani di Castello, di Borgo e di Città. Abbiamo inoltre con noi e ringraziamo anche l'Ambasciatore, Mercuri e la sua signora, il Vescovo, le autorità tutte, Gendarmeria, Milizie, Guardie di Rocca, i direttori degli istituti culturali, dei dipartimenti dell'istruzione, i direttori delle scuole superiori, i dirigenti degli uffici della pubblica amministrazione, i presidenti degli istituti bancari, i presidenti degli ordini professionali, i docenti, il personale tutto, tutti gli studenti e le studentesse presenti, che ringraziamo in particolar modo per essere qui con noi in questo importante momento ed evento. E voi tutte, signore e signori. Adesso procederemo con la chiamata in sala dei chiarissimi rettori, ospiti o dei loro delegati. Quindi procediamo con la venuta in sala del Rettore Professor Stefano Bronzini, dell'Università di Bologna Alma Mater Studiorum. Del Rettore Professor Carlo Adolfo Porro, dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Del Professor Paolo Pascucci, delegato del Rettore Professor Giorgio Calcagnini, dell'Università di Urbino. Della Professoressa Barbara Bigliardi, delegata del Rettore Paolo Martelli, dell'Università degli Studi di Parma. Del Professor Luciano Fadiga, delegato della Rettrice Laura Ramacciotti, dell'Università degli Studi di Ferrara. E del Professor Edmondo Lupieri, della Loyola University di Chicago, USA. Buongiorno e benvenute e benvenuti a voi. Procediamo ora con la chiamata dei senatori. Il Professor Luciano Canfora, Direttore del Dipartimento degli Studi Storici. La Professoressa Anna Corradi, Direttrice del Dipartimento di Economia, Scienze, Ingegneria e Design. Il Professor Luigi Guerra, Direttore del Dipartimento di Scienze Umane. Il Professor Marcello Tarantino. Il Professor Roberto Mugavero. Il Professor Luca Gorgolini. Il Professor Riccardo Varini, che oggi farà Maestro di Cerimonia. La Direttrice Generale, Professoressa Laura Gobbi. E chiediamo anche di accomodarsi qui vicino a noi. Il Magnifico Rettore, Professor Corrado Petrocelli. Che fa il suo ingresso in sala con il Presidente, Professor Giuliano Amato. Autorità, Magnifici Rettori e loro delegati, docenti, personale di gestione, care alunne e alunni, care studentesse e cari studenti, signore e signori, grazie della vostra presenza. Adesso io cedo la parola al Magnifico Rettore, Professor Corrado Petrocelli, per il discorso inaugurale di avvio dell'inaugurazione dell'anno accademico. Prego. Grazie, Professor Varini. Eccellenze, eccellentissimi capitani reggenti, onorevoli segretari di Stato, magnifici Rettori e Delegati delle Università, carissimo Presidente, Professor Giuliano Amato, nostro ospite e relatore, tutte le autorità civili, militari, religiose, le colleghe e i colleghi, le studentesse e gli studenti, signore e signori, grazie per essere qui con noi oggi, nonostante un tempo inclemente, grazie a tutti quelli che si sono adoperati senza risparmio per l'organizzazione, da Marilena Serafini, Maddalena Fernina, ai ragazzi che come sempre fanno volontariato. Io dovrei, a questo punto, come consuetudine, avventurarmi in una impresa faticosa, perché scopro che ogni anno stiamo facendo molto di più di quanto avevamo fatto l'anno scorso, di riassumere, sia pure rapidamente, il lavoro svolto, i risultati raggiunti, delineare le prospettive per il futuro. Oggi sinceramente non me la sento di cominciare così e quindi mi scuserete. Gli eventi di questi ultimi mesi e poi di questi ultimi giorni ci dimostrano che i focolai di guerra sono così numerosi che sarebbe difficile citarli tutti, per non parlare delle guerre pregresse e magari dimenticate, per esempio quella di Siria. Il conflitto russo-ucraino ha raggiunto un tale livello che la scorsa settimana il Consiglio europeo, ed è proprio di ieri l'altra notizia, viene invitato a mettere in campo azioni che preparino l'Unione ad uno scenario di guerra. E cioè la guerra si normalizza a sfavore della diplomazia. Fondi per i bunker in Polonia, mentre si ammassano truppe ai confini, il Consiglio d'Europa sembrava diventato un Consiglio di guerra. Ma soprattutto il conflitto in Medio Oriente, la vicenda israelo-palestinese, mostra numeri da catastrofe. Abbiamo superato i 30.000 morti, con un 70% di donne e di bambini morti, è come se morisse un bambino ogni 10-15 minuti, da quando è cominciato il 7 ottobre, quando c'è stato il massacro dovuto alla massa. Non si contano non solo i feriti, che sono più di 75.000, i menomati, spesso abbandonati a se stessi, e gli oltre 2 milioni di sfollati, e non parliamo dei convogli umanitari, dove ci sono migliaia di camion fermi ai confini. Se poi volessimo guardare all'università, agli istituti universitari di Gaza non ci sono più. E non sappiamo quanti studenti e quanti docenti sono morti. Può non interessarci per nulla? Può non riguardarci, non coinvolgersi, anzi non sconvolgersi di tutto questo? Può richiedere, questo che almeno se ne parli, che si possa levare una voce a invocare il cessato di fuoco, senza che così si venga apostrofati con sufficienza o con disprezzo, è successo anche verso il pontefice, da chi calza l'elmetto, ovviamente nel salotto di casa, perché è più comodo. Cioè riteniamo che non si possa far finta di nulla, non si debba volgere lo sguardo dall'altra parte, e non si possa essere indifferenti. Che fare? Mi l'ho chiesto, non lo so. Questo è il simbolo, dovrebbe essere dell'autorità accademica. Facciamo così. Diciamo che questa inaugurazione si svolge senza questo. Per rispetto. Cioè me ne rendo conto che cosa cambia questo piccolo gesto di un piccolo rettore, di una piccola università, dentro un piccolo Stato. Che cosa sposta o determina? Niente. Forse niente. Però almeno ribadisce con forza che questo è un luogo in cui ci si sforza di leggere, di interpretare la realtà, di essere liberi di riflettere, di interrogarsi, di pensare criticamente. Si può qua. Per noi si deve. E mi piace ricordare che non lo facciamo solo rivendicando questo come istituzione universitaria, cioè rivendichiamo la libertà che ci deriva dall'autonomia che ci è propria. Lo facciamo qui perché qui ravviviamo il fuoco di una tradizione consolidata nel tempo, sì, qui a San Marino, codificata nella dichiarazione dei diritti dei cittadini, di cui quest'anno si celebra il cinquantenario, in cui si afferma perentoriamente che la Repubblica di San Marino lo si fa all'inizio, rifiuta la guerra come strumento di risoluzione delle controverse fra Stati e si stringe la connessione con la condizione gelosamente costudita nei secoli di neutralità e si ribadisce la vocazione e l'accoglienza con un'altrettanto perentoria riconferma del diritto di asilo e di qualche giorno fa la delibera che impegna San Marino sui conflitti, in particolare su quello medio orientale, per sostenere formalmente con ogni sforzo, ogni impegno, la proposta di organizzare una conferenza internazionale di pace appoggiando in ogni modo ogni iniziativa e per l'immediata cessazione dell'ostilità. Una conferenza internazionale di pace a cui tra l'altro noi abbiamo sempre pensato e quindi ben venga. Quindi siamo assolutamente in linea, anticipato la risoluzione o non questa risoluzione san marinesi. Ora, a questi valori che noi vogliamo riaffermare oggi, noi ci siamo ispirati in molte delle attività e delle iniziative come quelle dedicate ai migranti e alle loro condizioni, come quando in occasione della Biennale di Venezia, abbiamo dedicato il padiglione pensato dai nostri designer e dai nostri studenti all'ospitalità. Sulle ragioni di questo nostro modo di intendere la comunità universitaria e la sua missione tornerò in breve più avanti con la stessa ostinazione di ogni anno non fa niente, non ho paura di ripetermi. Sarei invece adesso ingeneroso se non accennassi di sfuggita ad alcuni dei risultati raggiunti al percorso che ci attende sarei ingeneroso soprattutto ingrato verso l'impegno continuo e la disponibilità convinta con cui abbiamo operato grazie all'apporto di tutti dei colleghi del personale docente e degli studenti ma soprattutto al personale tecnico-amministrativo in particolare alle coordinatrici di ripartimento dell'alta formazione alla direttrice Isabella Bizocchi che con grande qualificato impegno ha operato su tutti i processi dell'organizzazione adesso la nuova direttrice Laura Gobbi che certamente non dobbiamo presentare perché l'università le deve se solo pensate al processo di Bologna e alla legislazione vigente. A tutt'oggi possono considerarsi completati i principali processi di informatizzazione la completa riorganizzazione del comparto tecnico-amministrativo condotta nel quadriennio precedente la mappatura dei principali processi sia in ambito scientifico-accademico che tecnico-amministrativo l'accelerazione impressa alla transizione digitale tutto questo è altro fa la differenza con il passato e contribuisce ad allinearci agli standard europei. Ecco, guardate lo sapete ma giova ribadirlo i processi di integrazione europea del nostro Ateneo costituiscono la prova provata della nostra crescita e soprattutto della nostra capacità di avere finalmente raggiunto i requisiti che ci consentono di sedere a pieno titolo nei consessi internazionali con piena dignità e pare dignità. Sono state tappe di un processo lungo difficile e faticoso una sfida impensabile quando io ero arrivato qui e oggi posso dire con orgoglio vinta siamo stati tra i soci fondatori del NASCAT che è il Network of Universities of Small States and Territories e una rete delle università dei piccoli stati per affrontare insieme condividendole le questioni comuni e specifiche. Abbiamo aderito all'International Association of Universities e questo ha comportato un iter difficile per ottenere l'idoneità come superare le procedure per essere invitati a diventare membri della European University Association sono più di 800 Atenei in 48 paesi che influenzano le politiche europee di istruzione superiore e di ricerca e innovazione. Accadeva perché eravamo riusciti a diventare firmatari della Magna Carta Universitatum era stata approvata la nostra richiesta e entravamo a far parte dello spazio europeo per l'istruzione superiore quello conosciuto come processo di Bologna la European Higher Education Area eravamo ammessi e per tre anni siamo stati seguiti da un lavoro terribile come controllo di un gruppo che ha indicato però con generosità gli ultimi risultati da conseguire per essere pienamente in linea con i valori e i principi fondamentali dei sistemi di istruzione universitario europei abbiamo adempiuto a tutte le indicazioni la legge approvata alla fine dello scorso anno e quindi ringrazio il segretario ringrazio il Parlamento sanmarinese ridisegna l'assetto del nostro Ateneo nella governance nel funzionamento adeguandolo pienamente ai canoni internazionali in tema di autonomia con una novità che io giurico sempre epocale per San Marino che è la possibilità di avere finalmente un corpo docente di ruolo stabile e di poter assumere come docenti anche non sanmarinissimi dovrei aggiungere l'accesso al programma Erasmus Plus finanziato dalla comunità europea qui si è molto speso il centro di ricerca per le relazioni internazionali del professor Chiaruzzi oramai siamo all'accordo recentissimo operativo con una serie di ricadute non solo in termini di mobilità ma anche della possibilità di accedere a fondi internazionali cosa che non abbiamo mai potuto fare sino ad ora essendo San Marino fuori dall'Unione Europea per noi la progettazione europea era off limits questo spiega anche perché l'università grazie appunto al CRI al centro di ricerca di cui vi parlavo prima ha quadruvato stimolato con seminari pubblici ciclici anche con una prima ricerca scientifica sull'opinione pubblica sanmarinese il processo per il cammino verso l'associazione perché noi abbiamo dedicato sforzi e attenzioni a investire e robustire nel settore delle relazioni internazionali la nostra attività quando sono arrivato ce n'era una sola abbiamo superato le 70 sono tante non ve le elenco perché riguardano tutte le parti del mondo praticamente le ultime che ho firmato l'altro giorno riguardano una delle università di Tokyo e un gruppo delle università del Brasile sono tutti obiettivi raggiunti che insieme ad altri noi sottoporremo la valutazione dell'agenzia che abbiamo scelto perché abbiamo scelto un'agenzia di valutazione siamo stati forse un po' ambiziosi non ci siamo accolati all'Italia non abbiamo scelto l'Anvur non abbiamo dato vita ad agenzie casalinghe come altri paesi pure in Europa hanno fatto ci siamo rivolti a quella esterna europea super partes l'Institutional Evaluation Program che valuterà innanzitutto il sistema di assicurazione della qualità e tutto il resto da noi ora in tutti questi processi noi siamo stati sempre accompagnati dal nostro organismo indipendente di valutazione che ha svolto il proprio compito lo ribadisco in modo collaborativo e prezioso costituendo non solo un monito ma una guida importante prodiga di suggerimenti e indicazioni quindi io ringrazio il professor Guido Capaldo il dottor De Giorgi anche il nostro Leonardo Tagliente che sono tutti qui oggi in un'inaugurazione naturalmente non si può proprio totalmente fare a meno dei numeri che dicono molto in questo caso ci siamo ripresi dalla crisi del bienio Covid che come sapete ha lasciato uno straccico perché le iscrizioni diminuite allora poi si trascinano per una corte per almeno un triennio adesso ne saremo fuori l'anno prossimo siamo tornati però già ai numeri precedenti aumentano gli iscritti di San Marino e copriamo oltre ad alcuni stranieri tutte le regioni italiane come provenienza e se dobbiamo stare al successo dell'open day di poco tempo fa quest'anno lascia ben sperare per il prossimo si consolida l'offerta formativa in tutti i percorsi triennali e magistrali in cooperazione con Parma con Bologna con uno scambio reale reciproco con un imore c'è qui il rettore Carlo Porlo non mi soffermo su questo vi dico soltanto che c'è intenzione di dare vita a un corso magistrale di ampio respiro in Global Studies Governance Law International Relations ringrazio il professor Gorgolini perché sta molto lavorando su questo si tratta di un corso di laurea che ambisce ad essere unico nel panorama italiano erogato sia in italiano che in inglese e che intende promuovere lo studio dei fenomeni globali per mezzo di un approccio multidisciplinare trasnazionale credo che riusciremo a trovare un accordo con Urbino perché poi verranno chiamati accademici e professionisti dei settori giuridici storici politici delle relazioni internazionali e quindi questa è una delle novità crediamo di attuazione immediata nel settore dell'alta formazione quest'anno dobbiamo registrare una crescita per i nostri piccoli numeri esplosiva andiamo oltre il 340% per cui alla fine abbiamo più di 2000 studenti anche perché tra le varie attività ci sono anche rilevanti filoni di ricerca nutriti con significativi momenti di divulgazione scientifica vado ma in maniera molto rapida sicuramente ci saranno delle omissioni penso allo storico master in management dello sport system a quelli di ambito giuridico ed economico compresi i corsi di specializzazione per le professioni a quelli del management della pubblica amministrazione spicca l'ampia rosa relativa all'ambito della sanità che potrebbe vedere presto anche un master in oncologia integrata e un corso di laurea in osteopatia che sarebbe uno dei primi in Italia offerte che sono tutte coordinate dal centro di studi biomedici guidato dal professor Scuderi e insieme ai vari settori come la criminologia la psichiatria forense la vittimologia clinica e forense insieme alla nutraceutica in quest'ambito spiccano in particolare i filoni dedicati alle patologie e alla cura degli anziani è una scelta che la popolazione in Italia come anche San Marino oramai anziana abbia superato quella giovanile è noto e dovuto a due fattori concomitanti l'allungamento della vita e il calo demografico molta attenzione alla geriatria dunque con il nostro master storico congeriatria ed è la ragione per la quale da anni abbiamo finanziato e sostenuto la ricerca che è partita dall'ingegno di un san marinese emigrato nel Regno Unito sull'Alzheimer per contrastare i sintomi e ottenere una diagnosi precoce che è lavorato sulla popolazione san marinese creando così un modellino una popolazione ristretta le sue ricerche con reiterati assegni finanziati da noi e dall'IS la collaborazione in particolare della dottoressa Gutmann dell'IS ha condotto a risultati pregevoli sottoposti ad apprezzamenti in conveni internazionali e pubblicati noi continueremo a sostenerlo cercando di far nascere in questo come in qualche altro settore dei veri e propri centri specializzati delle vere e proprie isole di eccellenza su questo c'è già un accordo in itinere con l'università di Ferrara oggi c'è qui il professor Fadile speriamo anche con l'università di Modena Reggio e l'idea è che iniziative come queste poi possa un domani radicarsi il progetto di un corso di lavoro in medicina che costituisca un polo di attrazione a San Marino noi eravamo già messo a punto un progetto però forse non eravamo pronti San Marino non era pronto non vi posso fare l'elenco di tutte le iniziative di questo genere e di tutti gli atenei dalla Sapienza alla Cattolica da Milano Statale a Genova con cui noi abbiamo rapporti e le tante attività svolte dai dipartimenti e dai centri che mostrano come si sia operato per cercare il più delle volte di rispondere al meglio all'impegno per la terza missione cioè migliorare innovare far crescere il tessuto sociale culturale professionale imprenditoriale medico sanitario giudiziario del lavoro della PIA nel territorio sanmarinese siamo qui anche per questo continuo a ritenere un esempio paradigmatico la sottoscrizione non so quanti esempi analoghi ci siano dell'accordo quadro devo ringraziare il segretario Belluzzi perché è stato tra i segretari che questo accordo l'hanno voluto con tenacia e sostenuto noi università e congresso di Stato per dar vita a progetti istituzionali in interesse strategico è un accordo che ha funzionato sta funzionando ha prodotto iniziative e ne produrrà mi avvio verso la parte finale rapidamente i cenni ad alcune realtà come l'istituto giuridico presieduto dal professor Pascucci che è qui che ha implementato le attività con una legge ad hoc che ha ampliato assetto e finalità e a parte guidare la riforma sanmarinese sul lavoro con un progetto complessivo a parte l'avvio di una ricerca sui sistemi detentivi producendo il primo studio sul nuovo modello carcerario in San Marino penso alla scuola per le professioni giuridiche ed economiche di cui dicevo prima al master di secondo livello sulle pratiche manageriali nella pubblica amministrazione penso ai convegni ai seminari e l'attività di ricerca specie sull'ordinamento civilistico del diritto perché sanmarinese come voi sapete sanmarino è ancora priva di un codice civile ancora basato sulla tradizione del common law l'ingegneria gestionale ha dato vita ha rivitalizzato il dottorato che taceva da tempo questa mi pare la novità migliore in ingegneria economico gestionale gestito in collaborazione con Parma avviate molti accordi con le aziende di Stato per la definizione dei servizi di trasporto pubblico con Confindustria Emilia Romagna per potenziare il sistema di placement e tirocini dei nostri studenti collaborazione con nuove idee e nuove imprese con San Marino Innovation ringrazio il professor Italiente Venturini sono tanti è una ricerca particolare dedicata anche alle start up di successo l'impatto di pratiche di open innovation è sostenibile ringrazio anche la professoressa Bigliari che è qui una menzione particolare alla ricerca sulla mobilità sanitaria in rapporto alle disuguaglianze alla povertà e soprattutto sulle cure per gli anziani e il gradimento di esse a cura dei nostri colleghi Francia e Renzi che si collega al discorso sugli anziani di cui vi dicevo prima il centro universitario di formazione sulla sicurezza del professor Mugavro continua a essere un punto di difendimento internazionale per analisi sviluppi delle tematiche relative alle discipline legate alla sicurezza e dei rischi Mugavro è diventato anche direttore del centro di medicina e delle catastrofi del CEMEC e c'è il Master International Security Studies per quel che riguarda la storia non tesserò le lodi del dottorato di ricerca internazionale perché oramai lo conoscono tutti sapete che abbiamo quasi un centinaio di domande che provengono anche non solo da varie parti d'Italia ma anche d'Europa ci ha impressionato che il sistema di podcast per scaricare poi le lezioni che è stato curato da Usmaradio ma soprattutto era un nostro dottorando che è allievo adesso che è Giuseppe Giato abbia registrato migliaia di interessate di interessati accessi a tutte le lezioni seminari del nostro dottorato da parte degli utenti più vari questo lo facciamo su varie piattaforme ma soprattutto su quella di Usmaradio che è la nostra radio come dico sempre è un unicum nel panorama delle radio universitarie perché è l'unico centro di ricerca sulla radiofonia che ci sia che ha una scuola di radiofonia in cui i ragazzi producono comunicazione sonora multimediale progettano programmi collegandosi in una rete robustissima che Paci Dalò e Alessandro Lorenzi hanno messo insieme e che ha visto quest'anno il loro festival e il loro spettacolo essere trasmesso in diretta questa rete dall'Australia agli USA dall'Europa al Canada e al Sud America siamo anche nel bordo europeo che governa la comunicazione radiofonica il centro sanmarinese di studi storici retto dal professor privato ha l'attivo tante pubblicazioni che non vi dico vi cito il successo del manuale di storie di San Marino un successo curioso perché è un successo fuori confine cioè si vende poco qui e si vende moltissimo fuori tanto che adesso stiamo approntando l'edizione in lingua inglese mi piace sottolineare tra le ricerche che si stanno compiendo quella sul voto alle donne a cura della Patrice Gabriele di Valentina Rossi perché è finalizzata un'indagine ad ampio stretto sul lungo percorso che ha condotto al primo voto passivo di elettrici ed elette sanmarinesi il centro di studi Gramsciani che è diretto dal professor Mastro Gregori è attivo non solo su tutto ciò che riguarda l'opera e il metodo delle elezioni di Gramsci ma sul digitale delle humanities sulle tecnologie della conoscenza dall'indagine sul mercato del libro in Italia al censimento digitalizzazione e fruizione degli archivi politici sanmarinesi e adesso vado a Machiavelli nel tempo della guerra fredda al progetto di un master di secondo livello in comunicazione storica il centro di ricerca dell'immigrazione grazie a Patrizia di Luca dato vita a tantissime iniziative vi cito la storia dell'immigrazione sanmarinese quella in Belgio e quella minorile del periodo 2340 quello dello sfollamento dei profughi italiani della seconda guerra mondiale un caso come sapete storico quando qui c'erano poco più di 10.000 abitanti e riuscirono a ospitare oltre 100.000 sfollati lo fecero e mostrarono anche quella che credo Canfara nel suo intervento che fece qui in occasione dell'insediamento di una regenza definì una meritevole riluttanza di San Marino nell'accettare le leggi razziali furono gli ultimi e questo va ricordato e a proposito di memoria il centro di studi sulla memoria diretto dalla professoressa Violi darà vita a un progetto dedicato all'archivio multimediale delle memorie sanmarinesi con un'innovativa sezione di film amatoriali affidata a Elena D'Amelio e alle scritture a Patrizia Di Luca per accogliere e diffondere la documentazione audiovisiva e scritta inedita della cittadinanza e delle istituzioni poi ci sarà una collana completamente innovativa di volumi che saranno costituiti da un dialogo intergenerazionale tra un giovane ricercatore italiano e un affermato autore straniero speriamo anche di dar vita non solo ad una mostra sul meritevole fondo Young che come sapete si deve alla Cume e alla magnanimità di Umberto Eco che noi abbiamo qui una mostra che faremo con gli istituti culturali insieme all'amico Rondelli Paolo Rondelli e anche a un nuovo catalogo questo ci riporta rapidamente sono verso la fine alle attività del Dipartimento di Scienze Umane Master corsi di alta formazione in ambito psicopedagogico per formazione e abilitazione per gli insegnanti nuovo corso di alta formazione in management delle location del cinema e dell'audiovisivo è una novità con importanti partenariati italiani iniziative volte a produrre effetti non solo sul sistema dell'istruzione ma anche della società civile sono tanti non ve li posso elencare vorrei soltanto ricordare la collaborazione con l'autority pari opportunità nell'organizzare numerose e qualificate iniziative tanto sul tema della tratta degli esseri umani ma qui sul tema del contrasto alla violenza sulle donne e sui minori e il notevole contributo del gruppo interdipartimentale interdisciplinare il gruppo lei con progetti incontri spettacoli si sta lavorando anche ad un bilancio di genere con la professoressa Venturini infine il design a maggior ragione in questo caso la sintesi che i tempi di oggi impongono mi costringono solo ad alcune citazioni che non rendono giustizia di una pluralità di iniziative non solo curricolari laboratoriali ma seminari workshop specie quelli estivi cui oramai prendono parte docenti di altri atenei soprattutto studenti di altre sedi e adesso anche stranieri ai partenariati con aziende denti agli accordi con segreteria aziende di stato l'IS a beneficio della realtà sanmarinese si unisce anche il piano di gestione del sito UNESCO San Marino e Monte Titano ai progetti per Pesaro Capitale di Cultura 2024 progetti su archeologia e design il progetto Stretch the Age che è stato finanziato da noi da Bologna e dall'università di Beijing City in Cina ringrazio qui l'istituto Confucio la sua nuova direttrice cinese Ruth Guo per la collaborazione che si sta dimostrando sempre più fattiva e anche il professor Brignoni e ha prodotto già un importante convenio internazionale ma grazie al design San Marino è stata attore principale nell'organizzazione dei contenuti per la partecipazione alla Biennale di Venezia insieme arte, architettura design, biologia storia, filosofia teologia, antropologia persino gastronomia a confronto su un tema di progetto a quale hanno partecipato Bologna Ca' Foscari l'Accademia di Brera la Beijing City University e la Technology University di Stuttgart quel tema così declinato sull'ospitalità sull'accoglienza ci ha riportato ad una delle iniziative cui forse io sono più affezionato perché quando abbiamo provato a far dialogare studiosi dei settori più diversi per la prima volta su un tema delicato difficile designing civil consciousness fu allora io ricordo il successo di quell'iniziativa e soprattutto la partecipazione degli studenti gli studenti tra l'altro non è un caso che i nostri mieti hanno successi premi, targhe segnalazioni nei vari concorsi gli studenti e qui ringrazio il Marica Montemaggio e tutta la segreteria per ciò che fa sono il nostro punto di riferimento mi viene fatto osservare che ne parlo spesso ogni volta ma è per loro che noi dobbiamo declinare come noi crediamo debba essere un'università e guardando a loro che abbiamo dedicato i nostri spazi ogni anno ad aumentare i nostri sforzi ogni anno ad aumentare i sussidi borse di studi anche quest'anno tutti gli idoni verranno accolti a loro pensiamo quando chiediamo con forza la disponibilità di un collegio guardo il segretario guardo i segretari ricordatene per favore a loro quando segnaliamo al territorio sanmarinese quale impatto produce la loro presenza qui quando cerchiamo di garantire stagio e tinocini il nostro placement è ottimo spero che presto possiamo trovare un modo di essere presenti anche in Alma Laurea a loro quando pensiamo a dar vita a facilities di vario genere sostegno come la figura del garante counseling psicologico si è rivelato indispensabile spesso per chi studia lontano da casa e anche il sostegno a chi ha difficoltà dell'apprendimento sapete che le difficoltà dell'apprendimento abbiamo uno dei massimi esperti a livello mondiale forse migliore europeo che è il professor Stella e quindi ringrazio la dottoressa Tarducci che lavora ai servizi per l'inclusione ma ringrazio anche la professoressa Silvia Stefanelli che sta promuovendo l'iniziativa di creare addirittura uno spin off per lo studio e la ricerca applicata sulla dislessia allora c'è un fil rouge che si dipana dagli appassionati discorsi con cui una figura i sanmarinesi sanno come Fausta Morganti sostenne e fece approvare la proposta di creare l'università le medesime espressioni ritrovate in un discorso di Umberto Eco e in un discorso di Attilio Alto pensavano sono parole prese dai loro tre discorsi ad un Ateneo vocato a formare menti libere e critiche in cui si chiedesse il perché di fenomeni scientifici e sociali si praticassero umiltà del dubbio si suscitassero curiosità e passione un Ateneo particolare perché votato agli ideali di ugualianza libertà indipendenza e appunto pace come abbiamo detto all'inizio allora quando qualche anno fa ha accettato il nostro invito Ferruccio De Bortoli aveva appena pubblicato il suo volume scritto come diceva lui come disse qui per invocare una riscossa civica riteneva doveroso che uno dei primi elementi per questo progetto fosse investire in ricerca cultura formazione innovazione ma si doveva fare aggiungeva per rianimare uno spirito civico perduto un senso di responsabilità collettiva annebbiato disse oggi da un individualismo miope e scomposto la rinascita delle passioni civili passa anche dal senso di comunità ci ricordo Andrea Riccardi un altro nostro ospite evocando quel senso di responsabilità che per Zilgund Bauman è ciò che manca manca la selezione lo ripeto spesso nel processo cognitivo manca la capacità di capire di refinire di affinare di scartare di scegliere scegliere la scelta consapevole la volontà di optare che deriva dalla capacità di analisi oggi niente più concetti se possibile niente più processi soluzioni veloci se posso fare da solo chiedere alla rete magari all'intelligenza artificiale guadagno in velocità e linearità è il tempo della rete un'altra definizione di Bauman il web tempo che non ha né passato né futuro perché il tempo biologico appare superato tutto è un presente contemporaneo immediato ora è qui il presente è egemonico non vuole apparire figlio della maturazione delle contraddizioni del passato ne sente obsoleti gli insegnamenti lo offusca satura anche l'immaginazione perché lascia trasparire astento lineamenti futuri mentre il futuro dovrebbe dovrebbe partire da un'idea di condivisione quindi grande appare la contraddizione fra un mondo continuo nello spazio e soprattutto nella connessione della comunicazione istantanea quella che evoca la globalizzazione della libera circolazione di persone merci idee e invece la realtà del mondo che è discontinuo pieno di fratture disuguale dove più ricchi e più forti difendono e robustiscono interessi e posizioni e il problema del sapere e dell'accesso alla conoscenza diventa capitale tutto oggi se ci pensate si basa sugli accessi pensate alle rappresentazioni di media e alle informazioni che contribuiscono a formare una coscienza sociale poi spariscono magari sono ritrattate ma nel frattempo hanno avuto efficacia ora l'istruzione l'educazione sono un diritto sarebbero come è stato detto il vaccino della buona cittadinanza eppure sono concetti che benché ben enunciati per esempio nella Costituzione italiana di cui ci parlerà oggi Giuliano Amato o nella dichiarazione dei diritti sanmarinesi non è così vengono talora dimenticati si è avuta anzi come dice bene in bel libro Scuola e Costituzione Roberta Calvano una torsione da diritto e dovere a funzione nell'obiettivo quasi esclusivo della preparazione del futuro lavorativo per il mercato da scuola università comunità a scuola università impresa della funzione pubblica a servizio pubblico invece il diritto all'istruzione si colloca secondo noi tra l'idea di diritto sociale e diritto di libertà scuola e università dovrebbero essere sì funzionali ma l'accrescimento degli strumenti culturali e cognitivi necessari allo sviluppo e l'emancipazione della persona connettendo l'interesse individuale per lo sviluppo della propria personalità a quello generale nell'ottica della solidarietà dei beni comuni mi avvio verso le conclusioni c'è un bel libro recente un sociologo turinese Filippo Barbera che si chiama le piazze vuote le piazze vuote riecheggia credo un vecchio adagio di Pietro Nenni le piazze piene diceva e le urne vuote direi che oggi sono vuote entrambe è forse un fenomeno figlio dell'altro queste piazze vuote costituiscono dice il nostro autore un segno di disagio sociale evidente di ridotta partecipazione pubblica e dunque anche degli spazi di cittadinanza gli spazi si sono arresi alla movida da un lato e dall'altro allo spazio digitale come unico vero spazio di partecipazione sono sempre più pervasive le attività che svolgiamo a distanza si è digitalizzato il lavoro lo studio il consumo l'essere cittadino forme di mediazione relazioni legami di solidarietà e condivisione sono spazzati via dalla immediatezza mediatizzata accade così che il senso comune sia sempre più orientato all'io che a noi e invece la dimensione della prossimità è un terreno cruciale su cui possono formarsi orientamenti comuni è fondamentale incontrarsi guardate stare insieme nello stesso spazio interagire fisicamente lo spazio condiviso non solo piazze naturalmente ma biblioteche centri culturali associazioni parrocchie parchi creano un'effervescenza collettiva solidarietà coesione però pensateci noi qui come università questi spazi ce li abbiamo già noi dovremmo assiduamente perciò frequentarli per questo prima ancora di dire quello che pensiamo delle università telematiche e noi dovremmo farlo quotidianamente anche perché li mettiamo a disposizione di chiunque con tante iniziative e attività è questo un tessuto allora privilegiato che non sempre troviamo è un tessuto di confronto di incontro e di discussione che va salvaguardato proprio di recente Giuliano Amato con Doratella Stasio ha dato alle stampe il volume storie di diritti di democrazia la corte costituzionale nella società il volume testimonio alla volontà della corte dal 2017 al 2022 credo di comunicare con i cittadini per spiegare illustrare i tanti interventi che per certi versi hanno riscritto la storia del paese i giudici lo fanno per contribuire nel libro spiegato a radicare i diritti nella coscienza sociale passaggio indispensabile per una cittadinanza attiva per arginare l'analfabetismo costituzionale e per farlo che cosa scelgono come strumento principale l'incontro fisico con la società civile il viaggio nelle scuole l'incontro con i ragazzi dei paesi della terra dei fuochi l'incontro con i giovani l'incontro nelle carceri negli ospedali nelle caserme nei centri migranti poi ci sono anche gli incontri con personaggi della cultura la discussione sulla libertà di arte e scienza c'è anche quello si parla di tante cose va letto quel volume credetemi di quando le donne potevano partecipare per la prima volta ai concorsi pubblici della normativa sull'adulterio che sia negli anni 60 era considerata solo se l'adulterio fosse commesso dalla moglie si parla dell'ergastolo stativo degli sbarchi dei migranti del suicidio assistito dell'eutanasia dell'omicidio consensuale delle droghe e quindi del valore dei referendum applicati a questi ma la cosa che mi interessa sottolineare davvero in conclusione è che ogni incontro viene detto è uno scambio reciproco invita ad uscire dal palazzo o invita ad aprire il palazzo Giuliano Amato confessa di emozionarsi la sera dello spettacolo di Nicola Piovani in una piazza gremita riempita scrive da società civile che va dal presidente della Repubblica ai compagni dei viaggi nelle scuole e nelle carcere ai cittadini comuni e sconosciuti lì vengono messe sul palco in scena le umedili di Eschilo attualizzate da Piovani e si rileva una consonanza tra i temi di quella rappresentazione e le considerazioni dei padri costituenti si ritrovano i valori civili ancora oggi dovrebbero essere fondanti che faticano ad essere pienamente appresi e applicati cito dialogo e non violenza pensiero e non spada tribunale non campo di battaglia parola non sangue allora i diritti per esistere si scrive nel testo di Giuliano Amato devono vivere in primo luogo nella coscienza delle persone a cui sono negati creare nei cittadini la consapevolezza dei propri diritti è compito che dovrebbe spettare a molti l'hanno fatto anche alcune organizzazioni collettive del novecento che adesso non fanno più l'università però può deve avere in questo una grande responsabilità specie in un momento di grande crisi come questo con il ruolo di coscienza civile generatrice di idee mettere disinteressatamente le sue risorse cognitive al servizio della collettività affrontare temi di rilevanza pubblica avere lo sguardo lungo dove quasi sempre ormai è corto quello della politica uno spazio dove si può discutere parlare si può immaginare noi siamo una piccola università ma noi vogliamo che questa sia la nostra università è ufficialmente aperto l'anno accademico 2023-2024 grazie grazie a tutti ringrazio ringrazio ringraziamo moltissimo il magnifico rettore e ci congratuliamo con lui con il rettore e con tutte le persone gli organismi i gruppi gli studenti che contribuiscono a portare in alto anche il nome di questa università e mi sembra anche di poter leggere nelle parole del professor Petrocelli magnifico rettore che seppur piccola anche questa università ha un valore fondante che è quello dovuto probabilmente anche al territorio in cui viviamo che caratterizza da questo contesto particolare e una delle caratteristiche è quella la capacità di trasformare poi la distanza in vicinanza in partecipazione e quindi in volontà di prossimità e sono dei valori molto importanti oggi per noi e anche per i nostri studenti e chiamo adesso a intervenire il segretario di stato per l'istruzione e la cultura e l'università la ricerca scientifica e le politiche giovanili l'onorevole Andrea Belluzzi grazie il mio primo saluto è rivolto agli eccellentissimi capitani reggenti grazie per aver onorato con la vostra presenza questa giornata a tutte le autorità intervenute ai colleghi agli studenti ai docenti ai graditi ospiti a Magnifico Rettore al Senato Accademico grazie per il suo intervento Magnifico Rettore ma grazie soprattutto per l'impegno l'impegno instancabile con cui in questi anni hai guidato il nostro Ateneo perché come sempre il tuo impegno è stato caratterizzato da passione passione civile ma anche visione di prospettiva il tuo intervento è stato caratterizzato così come tutti questi anni appunto da questi sentimenti e da questi moti voglio stendere ringraziamento al Direttore Generale dell'Università della Repubblica di San Marino la Dottoressa Laura Gobbi cui auguro un buon lavoro per i prossimi anni e rivolgere un ringraziamento un saluto speciale alla Dottoressa Bizzocchi che ha terminato il suo incarico per l'alto lavoro l'alto contributo che ha saputo dare alla nostra Università e alla nostra istituzione esprimo in modo particolare la mia più viva gratitudine al Professor Giuliano Amato insieme a un benvenuto nella Repubblica di San Marino per aver accolto appunto l'invito a partecipare all'evento odierno e essere presente nel nostro Paese Presidente Amato Professore Amato io risparmio la presentazione del suo profilo perché è ampissimo e non sarei sicuramente in grado di coprirlo tutto mi permetto modestamente però di citare una delle sue missioni voglio dire usare questo termine Vice Presidente della Convenzione Europea sul futuro dell'Europa un organo istituzionale straordinario e temporaneo e contemporaneo per l'Unione Europea istituito nel dicembre 2001 e che ha elaborato il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa un testo normativo che mirava a semplificare il processo decisionale dell'Unione e conferire all'UE e alle sue istituzioni maggiori poteri ma che non è mai entrato in vigore poiché è ratificato solo da 18 Paesi se non mi sbaglio su 27 Paesi membri beh per noi questo tema questa visione questo desiderio di Europa è quanto mai attuale il nostro Paese ha concluso da poco un processo di negoziazione di per un accordo di associazione noi vediamo nell'integrazione in un contesto come quello europeo il nostro futuro il nostro sviluppo e in questo senso io ringrazio l'Università di San Marino perché non solo come Università pubblica ma come istituzione ha svolto un ruolo estremamente importante in questi anni proprio perché ha accompagnato il Dipartimento istruzione in un processo di accreditamento internazionale il magnifico rettore lo ha menzionato l'ingresso nel processo di Bologna non è stato solo l'ingresso dell'Università della Repubblica di San Marino ma è stato l'ingresso del nostro sistema di alta formazione di formazione superiore cioè il nostro sistema è stato accreditato da un lavoro fatto dall'Università di San Marino è stato citato il Centro di Ricerche Internazionale grazie al lavoro fatto dal Dipartimento Istruzione l'Università ha recitato quel ruolo quel desiderio quella quella aspirazione che noi tutti abbiamo cioè di ricercare una maggiore integrazione quale spazio per nuove e per più importanti opportunità in questo contesto il nostro sistema di formazione ovviamente trova opportunità di crescita di interazione di sviluppi di possibilità di collaborazioni ma soprattutto trova la possibilità di veder riconosciuto il proprio lavoro e di dare spazio di sviluppo ai nostri studenti è stato citato il processo Erasmus Plus nel quale siamo entrati grazie proprio a un voto del Parlamento Europeo in questo senso invece che ha aperto le porte ai piccoli stati d'Europa ecco questo lavoro permette anche di aprire una riflessione nel portare i saluti istituzionali come segretario di Stato a nome di tutto il governo in questo in questo momento così importante per la nostra università è anche un momento di di analisi di riflessione la legislatura è ufficialmente volta al termine sul lavoro fatto il magnifico rettore ha citato un accordo istituzionale io qui ho presenti dei colleghi che hanno attinto a piene mani il segretario della giustizia il segretario del lavoro il segretario della sanità vede seduto nel senato accademico il presidente del CEMEC che è il centro europeo di medicina delle catastrofi l'università di San Marino è entrata e si è interconnessa sempre di più col tessuto del nostro paese questo è un'analisi un bilancio che facciamo di questo di questi di questo periodo e di questo percorso che è stato fatto lasciamo all'inizio di questo anno accademico è un momento di bilanci perché è terminato un periodo inizia in questo anno accademico il primo anno accademico in cui l'università si presenta con una legge quadro sull'istruzione superiore che non avevamo prima con una legge sull'università rinnovata che dà all'università nuove funzioni e la accredita completamente all'interno dello spazio europeo dell'istruzione superiore così come è accreditato in l'intero nostro sistema bene in questi quattro anni abbiamo sviluppato insieme con l'università e il governo abbiamo sviluppato l'istituto giuridico abbiamo avuto proprio la settimana scorsa l'opportunità di aprire le celebrazioni dei 50 anni della nostra carta dei diritti grazie alla collaborazione del professor Pascucci con gli studenti delle nostre scuole superiori aprendo delle importanti riflessioni sui valori della carta dei diritti della Repubblica di San Marino insieme a ospiti di altissimo livello quale il cardinal Zuppi e il presidente Luciano Violante oggi se la nostra Repubblica ha ospiti di inaugurare l'anno accademico personalità cui rinuovo la mia gratitudine come presidente amato come coloro che sono intervenuti negli anni precedenti ecco questa è la testimonianza di un lavoro importante e vi chiedo scusa ogni tanto mi giro perché per me è un gesto di gratitudine nei confronti del senato accademico e rappresentanza di tutto di tutta l'istituzione universitaria ecco questi anni sono frutto di un grande lavoro di crescita e sì è tempo di bilanci possiamo parlare del decreti che abbiamo varato il completamento della legge quadro sull'istruzione superiore il quadro dei titoli e delle qualifiche la riforma all'istituto giuridico l'istituzione di un profilo di ruolo per quello che riguarda i docenti universitari o tutto tutto un processo che abbiamo attivato abbiamo firmato proprio in presenza del magnifico chiedo scusa del professor Guerra in sostituzione del magnifico rettore un accordo con 101 università brasiliane proprio la settimana scorsa quindi perdonami magnifico ti devo correggere non 70 ma 171 in questo senso perché con un accordo unico abbiamo attivato un dialogo costruttivo con le principali 90 università pubbliche brasiliane la nostra università appunto si allarga si allarga cresce anzi perdonatemi per qualità cresce per dimensioni sicuramente appunto bisognerebbe fare dei bilanci io purtroppo vengo da un'estrazione una formazione per cui più che guardare quello che si è fatto terminato un lavoro si guarda avanti si pensa a cosa c'è da fare e ci si rimbocca le maniche c'è da fare tanto sì c'è il tema dello studentato ma c'è il tema della valorizzazione della ricerca scientifica la nostra università è e deve rimanere essere l'epicentro del sistema paese san marino per quello che riguarda la ricerca a disposizione del pubblico noi ripeto richiamo il discorso relativo dell'associazione sull'Unione Europea qui abbiamo i saperi che ci possono accompagnare permettere di cogliere tutte e le migliori opportunità in questo percorso il mondo dell'economia qui può trovare dell'impresa qui può trovare il primo laboratorio dove sviluppare dove investire essendo micro imprese piccole imprese comunque rispetto al sistema al competitivo dei grandi stati qui può trovare comunque le condizioni e le disponibilità anche per la rete di relazioni intraprese per sviluppare ricerca che crea poi appunto opportunità di crescita economica opportunità di crescita a tutto tondo come sistema paese ecco questo è un po' la missione sicuramente uno più studentati sono è la mia promessa il tema su cui lavoreremo fino all'ultimo giorno di questa legislatura insieme ai colleghi di governo perché abbiamo messo sul tavolo una task force in questo senso perché ci sono più stakeholder disponibili a confrontarsi su questo tema ripeto per il pubblico uno o più studentati perché c'è bisogno di numerosi posti letto e magari l'opzione di frazionarli può essere un'opzione percorribile perché la nostra università ha bisogno di crescere ha bisogno di aprire nuovi progetti formativi ha bisogno di sviluppare ricerca e quindi anche avere docenti con attività di visiting o sviluppare o comunque ospitare collaborazioni con altre università queste sono le traiettorie di sviluppo su cui la cittadinanza san marinese può contribuire e rimboccarsi le maniche nei prossimi anni per vedere un'ulteriore crescita del nostro sistema di altra formazione ecco volgo la conclusione nel ricordare che diciamo in questa fase in cui la nostra Repubblica si sta ricostruendo nel senso che si sta chiedendo cosa essere per il futuro proprio in funzione di un accordo come quello che abbiamo intrapreso in funzione del percorso che in questi anni la Repubblica di San Marino ha fatto di grande cambiamento il ruolo dell'Ateneo san marinese può e deve essere un ruolo strategico a disposizione della politica san marinese perdonatemi politica lo dico in senso alto cioè di tutto quello che è il sistema delle istituzioni politiche del nostro paese l'università può essere il lievito scientifico e culturale della nostra comunità che può farla crescere e maturare al fine di elaborare sapere avanzato e innovativo di fare da volano lo sviluppo economico di diffondere tra i giovani conoscenza e nell'ambito della terza missione divulgare alcuni saperi alla nostra società un percorso di crescita che le istituzioni devono sapere intraprendere al fianco della nostra università garantendole sempre pieno sostegno e effettiva collaborazione come fatto sino ad oggi lo voglio ricordare concludendo perché forse perdonatemi eccellentissimi capitani reggenti non voglio mancare di rispetto all'istituto reggenziale ma se oggi abbiamo due valori nella nostra comunità che sono riconosciuti da tutti ovviamente la reggenza la elevo al massimo livello ma per cui ha una sorta di sacralità l'istituto reggenziale ma sino ad oggi la nostra università è un valore condiviso da tutto il paese è una realtà in cui tutto il paese si è riunito e si è ritrovato unito in tutti i momenti in cui anche un voto ha dovuto dimostrare questo ecco il mio auspicio che questo continua a essere e questo continua a essere a disposizione del paese e dall'altra parte il paese a disposizione di un'istituzione che si sta rivelando sempre più preziosa vi ringrazio e buon anno accademico ringraziamo moltissimo il segretario onorevole Andrea Belluzzi ed è adesso un onore per tutti noi introdurre la lezione magistralis del professor Giuliano Amato ricordiamo e richiamiamo brevemente alcune delle cariche da lui ricoperte è stato giudice della Corte Costituzionale italiana di cui è stato anche presidente professore merito dell'istituto universitario europeo di Fiesole e dell'università la Sapienza di Roma nonché presidente dell'istituto dell'enciclopedia Treccani ha rivestito per due volte la carica di presidente del consiglio dei ministri italiano e altrettante quale ministro del tesoro è stato inoltre ministro dell'interno e ministro per le riforme istituzionali nonché parlamentare per 18 anni come autore ha firmato testi sull'integrazione europea abbiamo sentito anche prima dall'intervento sia del rettore che del segretario di stato alcuni richiami sulle libertà individuali e altre tematiche giuridiche e politiche pronunciandosi inoltre nella cornice delle attività della Corte Costituzionale su materie come i diritti fondamentali e il diritto all'identità personale invito dunque il professor Giuliano Amato a tenere l'Alexio Magistralis la democrazia difficile del nostro tempo e la Costituzione italiana signori capitani reggenti signor segretario di stato rettore colleghi amici e studenti grazie di avermi invitato in fondo per un vecchio professore inaugurare un anno accademico è qualcosa che fa sempre piacere non vi aspettate che riesca a dire cose diverse da quelle che ha detto il rettore che era molto sintonizzato sia sui temi che io avevo posto al centro di questa lezione sia al modo in cui questi temi io avevo intenzione di trattarli ho usato l'aggettivo difficile non perché sia una novità la democrazia è difficile la democrazia intesa come governo non semplicemente eletto dai cittadini ma che adotta politiche e fa scelte che vengono dagli stessi cittadini e che da essi sono discusse condivise non necessariamente ritenute collimanti per ciascuno con i propri interessi e tuttavia accettate in nome di un bene comune senza il quale la democrazia non riesce ad esistere ecco considerando tutto questo realizzarlo non è facile è particolarmente difficile al nostro tempo e le ragioni già sono emerse di questa difficoltà certo fu più facile quando la democrazia così come noi la conosciamo lasciamo stare ad Atene ci pensa Luciano a spiegarcelo insomma comunque è un'esperienza irripetibile diversa da quelle del nostro tempo noi cominciamo a parlare di democrazia quando iniziano le democrazie parlamentari con il voto con la organizzazione dei cittadini con il superamento del potere monocratico collocato in alto e legittimato dall'alto ecco le prime democrazie parlamentari furono di sicuro più facili di quelle che abbiamo cominciato a vivere con novecento perché furono più facili perché si chiamavano democrazie ma in realtà dell'intera popolazione degli stati a cui si riferivano esse rappresentavano la parte degli eletti eletti per educazione e per possedimenti che erano come in genere accade quando questo è il criterio una minoranza se prendiamo l'Italia il regno d'Italia che si dota di uno statuto di un parlamento di elezioni di libertà andava verso i 20 milioni di abitanti aveva un numero di cittadini aventi diritto di voto che all'inizio raggiungeva con difficoltà i due milioni e i partecipanti alle elezioni erano duecentottantottomila trecentomila quando andava bene non è che la pensassero tutti allo stesso modo c'erano da noi come altrove conservatori e liberali c'erano rivoluzionari verso le estreme e si dividevano anche al loro interno beh Cavour riuscì a costruire pian piano l'unità d'Italia lui conservatore distaccandosi dalla destra estrema della sua parte politica e unendosi a un centro più riformatore quello di Rattazzi il connubio che si realizzò all'inizio degli anni cinquanta quindi c'erano politiche diverse c'erano movimenti ma fondamentalmente gli interessi di fondo dei rappresentanti e dei rappresentati erano i medesimi insomma nascerà col crescere della società industriale un conflitto che sarà conflitto di classe che porterà verso il proscenio delle istituzioni rappresentative anche coloro che prima ne erano esclusi prendiamoci chiaro nell' all'inizio vota chi è istruito e ha un censo di quaranta lire poi si allarga a coloro che hanno un censo di diciannove e cinquanta il massimo di allargamento arriverà con coloro che pur non avendo questi requisiti hanno fatto il servizio militare e qui è famosa l'obiezione di Anna Kulishov al suo compagno Filippo Turati segretario del partito socialista al quale entrambi appartenevano che non era interessato al voto delle donne anche perché avrebbero votato le donne borghesi e questo a lui non andava genio ma il punto di vista della sua compagna era diverso e lei gli disse le donne non fanno il soldato ma fanno i soldati e forse questa è una ragione che dovrebbe bastare ma non bastò e passarono molti anni fatto sta idea che quando finalmente si arriva al suffragio universale sia pur maschile ecco che appare la difficoltà della democrazia contemporanea suoi protagonisti diventano soggetti che hanno interessi radicalmente diversi profondamente diversi ma non soltanto perché emergono le classi della società industriale anche perché si moltiplicano gli individui e noi siamo anche individui e se siamo milioni comporre i nostri interessi e le nostre aspettative è assai più complicato che non comporre gli interessi e le aspettative di poche centinaia di migliaia di persone tra le quali è più probabile che i margini di differenza siano minori e comunque più si è più la varietà può generare il caos il timore se volete di origine hegeliana che accompagna la nascita delle democrazie di massa è riusciremo ad evitare il caos riusciremo a creare a disporre di fattori coesivi sufficienti a ricondurre se non ad unità ad un pluralismo governabile l'estrema varietà di ciò che d'ora in avanti dovremo rappresentare e di cui dovremo tener conto e come è accaduto ed ha scritto giustamente oltre 70 anni fa Maurice de Verge furono i partiti politici lo strumento che permise alle democrazie di massa di funzionare i partiti politici e cioè quelle organizzazioni che nascono inizialmente nelle democrazie elitarie in Parlamento ma che rinascono nelle democrazie di massa nella società se pensate all'Italia i due partiti che nascono con la società di massa che sono il partito socialista e il partito popolare sul finire dell'ottocento questi due partiti arriveranno in Parlamento ma partiranno con la loro organizzazione dal basso il partito socialista e le camere del lavoro sono due facce di una stessa medaglia che unisce i neolavoratori dell'industria le camere del lavoro il partito socialista legherà poi i lavoratori delle campagne con i lavoratori urbani i lavoratori industriali ma ecco che si crea un fenomeno nuovo che non esisteva prima si creano identità collettive che cos'è un'identità collettiva lo spiegherà bene molti decenni dopo Sandro Pizzorno uno dei nostri più grandi sociologi politici identità collettiva è un'identità che io condivido con altri e che è implicitamente per me come per gli altri caratterizzata da valori che condividiamo da aspettative che condividiamo da un futuro che insieme vogliamo costruire è questo ciò che dobbiamo considerare la chiave su cui i molti anziché essere fonte e fattore di caos diventano parte di sistemi comunque funzionanti i partiti politici che crescono nel novecento sono partiti la cui organizzazione è nella società hanno nelle città e nei quartieri le loro sezioni o circoli hanno una organizzazione periferica hanno una vita caratterizzata dal discutere insieme i problemi comuni dal discutere insieme i problemi comuni tanto in quanto comunità locale quanto in quanto comunità nazionale o anche più ampia io ho fatto quella vita da ragazzo da giovane e tutti quelli della mia età o dintorni hanno questo tipo di ricordo ci incontravamo nelle sezioni cittadine o di quartiere avevamo un ordine del giorno e io l'ho raccontato più volte uno lo dice oggi e gli altri si mettono a ridere a volte ma era così la pace nel mondo il ruolo dell'Europa il ruolo dell'Italia il trasporto pubblico le carenze del cimitero ecco e noi ci addestravamo tutti a discutere quest'ordine del giorno da là alla zeta facendolo noi imparavamo il senso degli interessi comuni degli interessi collettivi imparavamo a riconoscere le ragioni degli altri e a cercare un punto comune tra noi e gli altri uno non poteva arrivare lì a dire io e fermarsi lì no c'erano altri io e questi io si componevano il modo di comporli era il futuro il punto di intesa di solito era il futuro a darlo era difficile trovarlo sul presente ma se tu ci metti questo e io ci metto quello possiamo insieme fare qualcosa caratteristica dei partiti tutti è che tutti avevano un sol dell'avvenire anche se solo alcuni usavano il sole come simbolo dell'avvenire c'era per tutti un sol dell'avvenire ed era il partito che permetteva uno scambio che in politica è fondamentale perché le cose funzionino lo scambio tra presente e futuro perché a volte sul presente c'è una incomponibilità non smussabile ma se ci si sposta poi sul futuro su quello si trova il punto di incontro e il vantaggio che può essere vantaggio per tutti la costituzione italiana conta tanto sui partiti che uno dei tratti essenziali lo dicevo con le mie prime parole della democrazia la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche guardate questo è democrazia certo che è essenziale il diritto di voto nella democrazia ma guai a pensare guai a dire ai cittadini tu vota io faccio decidere a te perché tu voti no questa è una componente essenziale ma è solo una componente non è un caso che è talmente forte l'idea della democrazia che non esiste regime autoritario in cui i dittatori non si facciano eleggere perché ormai la legittimazione viene solo dall'elezione non c'è più l'imperatore che possa legittimarti dall'alto né il papa a quel punto è il popolo che ti legittima e tu lo fai votare magari in condizioni che garantiscano a te a te solo di essere eletto però sei eletto dai cittadini questa è una parte l'altra parte è che i cittadini negli anni che passano tra un'elezione e l'altra devono essere attivamente partecipi in quanto lo vogliano in quanto lo vogliano la cittadinanza attiva non è un obbligo ma è una possibilità che deve essere possibile per chiunque intenda farla valere partecipare bene dicevo era tanto rilevante il ruolo dei partiti al tempo in cui la costituzione fu scritta che questa locuzione essenziale per una democrazia i cittadini partecipano alla determinazione delle politiche nazionali che la costituzione articolo 49 aggiunge costituendosi associandosi in partiti politici quindi lega la partecipazione ai partiti fotografa la realtà di cui prima vi parlavo che io stesso ho vissuto e la fotografa fra l'altro in un momento in cui la legittimazione dei partiti per gli italiani era anche superiore a quella che avevano le istituzioni pubbliche perché il nord era nelle mani di una repubblica vassalla degli occupanti nazisti il centro sud era ciò che rimaneva a un regno d'Italia i cui reggitori erano fuggiti dalla capitale e si erano trasferiti altrove con dei risultati fra l'altro concreti come il fatto che i servizi avrebbero smesso di funzionare se non se ne fossero occupati i partiti la storia dei comitati di liberazione soprattutto nel centro nord ovviamente perché al sud era rimasto il regno è la storia di organismi che si occupano anche dell'erogazione delle energie elettriche e della distribuzione del latte nelle città quindi c'è una identificazione nei partiti che la nostra Costituzione riflette con delle conseguenze vi ricordo che si discusse a lungo se rafforzare o meno l'esecutivo il governo davanti ai rischi delle degenerazioni del parlamentarismo e fu approvato un ordine del giorno per assi che escludendo forme presidenzialistiche tuttavia prevedeva congegni per stabilizzare l'esecutivo non se ne fece praticamente nulla per una esplicita presa di posizione dei partiti i quali dissero la forza che dà stabilità ai governi siamo noi finché noi li sosteniamo i governi sono forti se noi smettiamo di sostenerli i governi sono deboli guardate avevano ragione perché la storia avrebbe dimostrato che soprattutto paesi come il nostro che vivono di governi di coalizione in realtà quando perdono il sostegno della coalizione i governi in piedi non riescono comunque a starci e se ci stanno capita quello che sta capitando a Macron in Francia dove la coalizione che lo ha eletto praticamente non esiste più e dove il governo che fa capo a lui è un governo debole ma questo è un altro discorso che qui non affrontiamo il punto è ed è questo il cuore della difficoltà della democrazia di oggi è che tutto è cambiato rispetto ad allora ho voglia io di dire che la necessità per la democrazia di avere cittadini partecipanti ci arriverò tra poco nel concludere è forse addirittura superiore a quella che è stata in passato però attraverso i partiti non più può darsi che riescano i partiti a risorgere su ciò che è rimasto di loro ma non c'è dubbio che il cambiamento che ha diverse ragioni che è intervenuto in questi decenni ha fra queste ragioni come prima la sclerosi dei partiti il progressivo essiccarsi dei loro terminali nella società la progressiva perdita di quella capacità bidirezionale che avevano avuto di raccogliere discutere omogeneizzare e ricavarne politiche che poi rientravano nella società che già era preparata ad accoglierle questo è venuto meno è venuto meno per ragioni intrinseche ai partiti un grande libro poco conosciuto da noi anche se tradotto in italiano di Manco Rolson il libro fu tradotto in Italia nel 1983 ed era lo dico soprattutto agli studenti che volessero fare tesi su questi argomenti la logica dell'azione collettiva e spiegava con dovizia di argomenti che capita a tutti gli organismi rappresentativi dopo un certo po' di cessare di rappresentare di farsi carico degli interessi dei rappresentati e di occuparsi principalmente degli interessi dei rappresentanti perdendo il contatto con i rappresentati e preoccupandosi di assicurare il potere la rielezione le risorse finanziarie necessarie per i rappresentanti capita e questo è venuto capitando in questo processo di sclerosi in una fase storica nella quale stavano capitando anche altre volte perché in fondo non era stato difficile ai primi partiti mettere insieme esseri umani soggetti fisici la cui identità collettiva era già nelle cose nel lavoro che facevano nella comunanza di mansioni che avevano sul luogo di lavoro nel taylorismo della grande fabbrica industriale dove a decine a centinaia hanno le stesse mansioni e quindi tendono ad essere nella stessa posizione in termini di interessi le grandi famiglie in cui si viveva tutto questo viene lentamente cambiando intanto l'urbanizzazione fa fuori la grande famiglia porta alle famiglie nucleari porta all'individualizzazione della vita privata poi progressivamente l'innovazione tecnologica il cambiamento dei modelli produttivi fanno fuori la fabbrica fordista la fabbrica taylorista diventano più piccoli i nuclei nei quali si lavora in larghissima parte si individualizza anche la vita lavorativa oltre che la vita privata e ciascuno si ritrova solo ciascuno reagisce non più insieme agli altri a ciò che viene accadendo ma reagisce da solo in più non ha neanche bisogno di recarsi in piazza o in un altro luogo sta cambiando la tecnologia prima la televisione poi i social e questi portano un cambiamento enorme nel rapporto tra i cittadini e le elite politiche prima la televisione per comunicare non ho bisogno di andare a Rimini a Bergamo a Lucca appaio in televisione e parlo con tutti già parlo con tutti ma non parlo con nessuno io sono solo e quelli a cui parlo non parlano con me mi ascoltano non sono miei interlocutori possono essere miei tifosi o miei avversari e si esce dall'esibizione televisiva essendo convinti che si tifa per quello o che al contrario per quello io non voterò mai ma non ci parlo e i social daranno l'illusione di aver creato un canale alternativo rispetto a quelli di cui disponevamo prima ma in realtà i social sono quasi sempre conversazioni private private quella non è partecipazione pubblica non si guardano non si vedono non si interrompono non si sorridono non si prendono neanche a schiaffi si prendono magari a male parole parole di una esorbitanza oltraggiosa che non pensavamo stessero ancora nella nostra coscienza fondamentalmente i social ci hanno fatto scoprire che la civiltà non aveva cancellato il male che è dentro di noi ci aveva costretto a tenerlo lì in un angolo perché le relazioni lo impedivano poi con i social grazie all'anonimato che permettono e alla diffusione che garantiscono ci hanno fatto riscoprire quante cattiverie possiamo dire nei confronti del prossimo che questo faccia parte dello strumentario di una democrazia è francamente opinabile fatto sta idea che quando tutto questo si è venuto sviluppando nel corso di questi anni è venuto meno proprio il tessuto su cui la democrazia si reggeva è venuto meno quel insieme di valori collettivi che si corroborano si aggiornano si fanno valere grazie al contatto reciproco grazie alla scoperta che nonostante le nostre diversità individuali c'è molto in comune che possiamo avere o trovare con altri soprattutto quando ci accorgiamo di essere alle prese con difficoltà che da soli non possiamo superare e per superare le quali abbiamo bisogno di stare con gli altri ma questo non accade ormai l'assetto è venuto cambiando quei canali non ci sono più e allora davanti a quelle difficoltà noi che cosa facciamo ci arrabbiamo ci impauriamo diffidiamo ci isoliamo contro ed ecco che davanti a questa società che qualcuno avrebbe definito liquida l'aggregazione che non può più avvenire in nome di un comune sol dell'avvenire avviene con la maggiore facilità aggregando lo scontento unendo le rabbie valorizzando l'ostilità e crescono nelle democrazie parlamentari in tutte le democrazie parlamentari i movimenti cosiddetti populisti dove dove questa parola che assume un significato diverso da quello che ebbe negli Stati Uniti del primo novecento dove quei populisti in realtà erano gli antesignani dei socialisti che collaborarono al New Deal di Roosevelt questi populisti sono appunto quelli che mancando come tutti degli strumenti di interazione con i cittadini che erano dei vecchi partiti si schierano dalla parte di chi è scontento sì hai ragione le elite pensano solo a se stesse non ai tuoi interessi ai tuoi interessi penso io sì hai ragione gli immigrati farebbero bene a stare a casa loro perché gli immigrati in molte situazioni mettono paura non è gestibile il rapporto con gli immigrati se non viene gestito non si può scaraventare un'intera nave di venuti da lontano di notte in un edificio di un quartiere periferico facendo svegliare la mattina dopo i cittadini di quel quartiere con persone che non conoscono ne hanno immediatamente paura compito delle istituzioni è preparare questo incontro avere mediatori che esistevano e spendevamo per farlo che fanno stare insieme che costruiscono il ponte se nessuno costruisce il ponte prevale la paura allora l'unico che si fa avanti è quello che dice io condivido la tua paura hai ragione meglio tra di noi chi attenta ai miei valori alla mia vita privata certo anche i miei valori anche gli omosessuali io sto dalla parte tua sono persone diverse non vanno bene con la famiglia come la pensiamo noi ed ecco si crea un fronte di politica contro che non costruisce ma aggrega e forma poi degli agglomerati politici dai quali è molto difficile che escano politiche positive in un contesto del genere è chiaro che tutto ciò che trovate scritto in una costituzione come quella italiana viene torto tu hai usato l'espressione torsione c'è una torsione non è un caso che si governi solo per decreto legge e con questioni di fiducia ma è evidente perché le procedure parlamentari sono state costruite per consentire a ciascun punto di vista di entrare in ciascuna discussione e l'una parte influenzare l'altra e il prodotto finale essere un prodotto che in qualche modo tiene conto di tutti i partecipanti questo è il principio del contraddittorio in un sistema che diventa automaticamente alla Carl Schmitt amico nemico chi la pensa diversamente da me è un nemico o sta con nemico è la stessa cosa e allora non è possibile che si compongano i nostri punti di vista le procedure servono solo a mettere in evidenza quanto siamo distanti e quando poi si discute di singole questioni non è detto che il collante che io ho creato contro nemici veri o immaginari mi dia la stessa disciplina di gruppo che mi dava il partito un tempo ecco perché io non faccio che porre questioni di fiducia perché non ho davanti gruppi parlamentari o davanti singoli parlamentari e ne sono perfettamente consapevoli anche se sono gruppi guardate è un fenomeno antico a me capitò una volta lo raccontavo l'altro giorno di constatare con sorpresa che una votazione era andata male per il mio governo allora andai da quelli del gruppo che chiaramente aveva votato contro e il mio interlocutore mi chiese scusa ma tu con chi avevi parlato col vostro capogruppo ho risposto lui si alzò nelle spalle e se come dire il capogruppo che ce ne importa a noi del capogruppo insomma allora quando tu realizzi questo la volta dopo poni la questione di fiducia in realtà perché così il voto si sposta dal merito della questione alla fiducia al governo ecco questa è in realtà la situazione che riguarda le radici della democrazia e poi anche l'ultimo piano diciamo cioè quello in cui stanno le istituzioni e allora come si fa ecco questa è la domanda che abbiamo davanti noi possiamo affrontare il futuro disponendo come fattore coesivo più efficace l'additare nemici contro i quali ci dichiariamo tutti pronti a combattere possiamo affrontare il futuro di un mondo che sta più con la guerra che con la pace se è soltanto contro un nemico che troviamo la nostra unità possiamo affrontare il cambiamento climatico se è se è soltanto col presente e additando coloro che ci danno fastidio nel presente che riusciamo ad aggregare in politica ma avete notato quello che è già accaduto sul cambiamento climatico il Green Deal della Unione Europea è stato messo sui tavoli nel 2019 e sono state indicate le misure che per il presente avrebbero richiesto dei sacrifici in vista di un obiettivo futuro non marginale la sopravvivenza del genere umano su questo pianeta e fu detto già nel 19 lo accennavo a Luciano prima dalla commissione dovrete lavorare stati membri per convincere i vostri cittadini dei sacrifici che potranno essere necessari nel presente per garantirci quel risultato futuro la riduzione delle emissioni la temperatura che non superi il grado e mezzo l'acqua che rimane a disposizione nostra li dovrete convincere avrete a disposizione anche delle risorse finanziarie per fronteggiare le situazioni più difficili una politica con i caratteri che prima dicevo non ha fatto assolutamente nulla in questi cinque anni per fare questo lavoro che con le infrastrutture dei vecchi partiti sarebbe stato naturale fare e presumo che sarebbe stato fatto siamo arrivati al momento della consapevolezza da parte degli agricoltori dei sacrifici presenti che sarebbero stati chiamati a fare si sono mossi alcuni trattori e i governi compreso quello europeo hanno fatto marcia indietro rifletteteci su questo poi se qualcuno definirà ecco follie di Bruxelles il Green Deal vi prego di andarlo a leggere con i vostri occhi e col vostro cervello prima di farvi facilmente convincere troppo facile che tra i vostri nemici c'è naturalmente chi pensa queste cose a Bruxelles ecco siamo davanti a questo tipo di dilemma io una soluzione non riesco a vederla ecco se non nel recupero di quell'elemento essenziale della democrazia che da quando al posto dei partiti ci sono i comunicatori e i sondaggi abbiamo perso dobbiamo recuperare la partecipazione dei cittadini non è giusto che gli agricoltori siano assoggettati a quelle misure senza avere avuto modo di discuterle e di farsene convincere ma non è giusto per la politica che pretenda o di applicarle o di ignorarle senza fare la sua parte per parlarci per convincerli per arrivare magari ad un punto di incontro a metà è così che Dio comanda nella politica è per questo che esiste la politica le leggi da condividere non esistono quando sono scritte nella gazzetta ufficiale come i diritti devono entrare nella coscienza dei cittadini in una democrazia è così e Kant aveva ragione nel sostenere la sua adesione alla legge perché pensava che in questo la sua adesione avrebbe potuto essere garantita e quindi dobbiamo ristabilire procedure partecipative io sono arrivato a pensare e a scrivere che potremmo ritornare in Italia dove il populismo ha portato all'abolizione totale o quasi del finanziamento dei partiti salvo il 2 per 1000 ad istituire un finanziamento ad hoc per i partiti da spendere in procedure partecipative finalizzato esclusivamente a quello io sono arrivato a sollecitare il mondo del volontariato che è un mondo nel quale si trovano le persone abituate a occuparsi degli interessi non propri ma degli altri uno dei pochi mondi in cui ancora si trovano coloro che si occupano degli altri e non di se stessi e che quindi sono adatti a cercare il bene comune soprattutto a parlare a convincere a farsi coinvolgere questo mondo dalla politica dalla politica intesa non come palazzo ma come luogo per la partecipazione dei cittadini ho scritto un libro che sta uscendo in questi giorni insieme a Vincenzo Paglia e a Giancarlo Gosetti che è una ripresa 15 anni dopo dei dialoghi post-secolari tra me e Paglia in cui con loro sostengo che è una responsabilità dei credenti in una qualsiasi religione ma in particolare è una responsabilità dei cristiani per i quali il Dio si è fatto uomo e che in ragione di ciò non possono non riconoscere nell'altro uno come se stesso perché è ogni uomo e ogni donna che il patrimonio valoriale che c'è nelle religioni deve essere messo a disposizione della politica precisando e lo scrivo nei confronti dei cattolici che tu non ti devi ricordare di essere cattolico soltanto quando è in discussione la tua idea di famiglia o la tua idea di fine vita ti devi ricordare di esserlo quando ti occupi degli immigrati non puoi avere il crocefisso in mano mentre cacci dal tuo paese persone che non sanno dove andare e se te ne ricordi anche quando si parla di tasse non guasta perché anche lì il riconoscimento dell'altro ha un suo significato ecco in conclusione in conclusione questa è una fase della storia nella quale avrebbe detto Anna Arendt la felicità privata ha preso il sopravvento sulla felicità pubblica e la politica si è abbassata ad essere strumento delle felicità o infelicità private incapaci noi e lei di tornare alla felicità pubblica vi ricordate forse non tutti come nasce questo era un bello scritto della Arendt su felicità pubblica e felicità privata che elogiava la fase iniziale della vita degli Stati Uniti quando al termine di una giornata di lavoro dedicata al procacciare il pane alla propria famiglia il contadino l'operaio partecipava all'assemblea cittadina per discutere degli affari pubblici e così la felicità privata da un lato si accompagnava alla felicità pubblica la felicità trovata nell'occuparsi insieme agli altri degli affari di tutti poi la felicità pubblica è scomparsa e ciascuno si è chiuso nella felicità privata proviamo a ritornare alla felicità pubblica queste cose applausi applausi Il magnifico rettore consegna ora il sigillo d'argento dell'Università di San Marino al professor Giuliano Amato. Grazie. Ci alziamo in piedi e consentiamo il congedo degli eccellentissimi capitani reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. E dichiariamo la cerimonia dell'inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 conclusa. Grazie della vostra partecipazione. Arrivederci al prossimo anno. Grazie. 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 Grazie.